Samantha Isaia, una dirigente del Museo Egizio di Torino che viene a Imperia per raccontare la scienza e come divulgare la scienza. Com'è venuta qui e di cosa parlerà oggi? Allora, prima di tutto sono alla mia seconda esperienza grazie all'invito dell'Istituto Ruffini. Per noi è un momento di scambio interculturale e importante. Oggi veniamo a raccontare i cinque progetti di ampliamento e di cambiamento del Museo Egizio di Torino. Il prossimo anno il museo abbraccerà un grande festeggiamento, quello del bicentenario. Noi vogliamo affrontare il bicentenario della fondazione di questo museo andando ad ampliare i nostri percorsi, andando a raccontarci i flussi turistici in maniera completamente nuova. Il museo oggi si visita con un percorso, fatemi dire, obbligato. Si sale al sesto piano e si scende lungo 4.000 anni di storia. Domani invece il percorso sarà un percorso a stella, dove lasciamo la piena libertà ai nostri visitatori di scegliere che cosa vedere, che cosa rivedere, che cosa approfondire. Quindi questo per me è un momento di scambio importantissimo con quelli che saranno i nostri tecnici del futuro, quelli che magari verranno a lavorare in un museo come il nostro oppure verranno semplicemente a visitarlo. Il Museo Egizio è lanciato davvero verso un nuovo percorso di innovazione piuttosto trasversale e oggi la racconteremo ai nostri ragazzi. Il digitale è importantissimo per i musei. Attualmente siamo immersi in quella che viene considerata la trasformazione digitale e anche i musei ne stanno prendendo parte. Il digitale per i musei deve essere fondamentale, è una parte importantissima per la comunicazione. Il Museo Egizio da diversi anni ha preso una strada ben determinata. Cioè, quello che è il digitale non può essere un surrogato della materialità e dei reperti, ma può essere utilizzato proprio per la comunicazione e per trasmettere informazioni ai visitatori stessi, riguardanti i reperti ovviamente. Siamo con il preside dell'Istituto Ruffini. Oggi è una giornata importante per raccontare ai ragazzi non solo la scienza e la storia, ma l'importanza di riscoprirla. Come mai questa iniziativa? Oggi è la terza giornata dell'evento Guarda ora il tuo futuro. Giornata dedicata a due grandi tematiche, il turismo e le tecnologie, l'informatica. Come queste due realtà possono collaborare assieme per costruire percorsi futuri, per costruire le professioni del futuro. La maggior parte dei nostri ragazzi di oggi avrà in mano una professione che ancora non esiste. Occorre costruirla, occorre fargli capire quali sono le possibili strade. E quindi oggi, grazie a illustri ospiti locali e internazionali, approfondiamo queste tematiche e lavoriamo su queste prospettive per i nostri alunni. Questo è il terzo dei convegni di Guarda ora il tuo futuro. Quest'anno abbiamo ripristinato lo stesso format dello scorso anno, quindi al mattino convegni e al pomeriggio le squadre dei ragazzi che si sfidano per la challenge con un compito di realtà a creare un progetto innovativo per la città di Impera, lavorano con il testimonio. Quindi oggi lavoreranno con Samantha Esaia, direttrice gestionale del Museo Egizio e anche l'operatore digitale. È la giornata dedicata alla missione 1 del PNRR, cioè innovazione, digitalizzazione, competitività, turismo e cultura. Non è un caso che il PNRR unisca l'aspetto innovativo digitale con l'aspetto della cultura e del turismo, perché è proprio il trend che dovremo andare a sviluppare nei prossimi anni. Quindi tutti gli interventi di oggi avranno la doppia varianza, quella culturale divulgativa e anche quella digitale. Assessore Rogero, oggi un ospite molto importante al Polo Universitario Imperiese, di che cosa si tratta? Oggi abbiamo l'occasione di continuare il racconto che avevamo cominciato lo scorso anno, sempre la presenza del Museo Egizio, quindi credo che sia una bella occasione, per parlare di quella che è diventata una realtà, ossia la rete museale. Quindi l'anno scorso a questi ragazzi ho raccontato quello che stavamo per fare, quest'anno potremo raccontare i frutti del nostro lavoro e portare proprio a conoscenza di quella che è la nuova rete museale, anche alla presenza di municipi e della cooperativa Solidarietà e Lavoro, che insieme alla sottoscritta rappresenteranno quello che è l'investimento nei musei e il futuro dei musei d'Imperia. Grazie.